Allora, sei pronto, Batley? Sì, 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 sì! Ricordati! Quando ti do il via, colpisci il piccione con quel macigno! Lo stiamo raggiungendo, Batley! Preparati a colpirlo! Ora! Batley! Batley! Rapporto immediatamente al mio ufficio! Hai sbagliato tutto, Batley! È proprio quando stavamo per prendere quel dannato piccione! Ora restituiscivi subito la medaglia! Non mi interessano le lacrime, Batley! Dammi subito la medaglia! E che questa esperienza ti serva di lezione! Spero! Spero!